È una vicenda ancora tutta da chiarire, quella accaduta da Rezzo nelle scorse ore. Una donna di origini moldave sarebbe stata malmenata e un uomo di origini rumene denunciato. I due, secondo quanto si apprende, vivono in uno stato di grave disagio cercando ripari di fortuna durante la notte. A chiedere soccorso al 112 ci sono stati dei passanti che hanno sentito le urla. Sul posto si sono portati gli agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, la donna poi trasportata al pronto soccorso avrebbe raccontato di essere stata vittima di minacce percosse e nel tempo anche di violenze sessuali. Sul caso indaga la squadra mobile della questura di Rezzo, l'uomo è stato denunciato alle autorità competenti per i reati di lesioni personali, maltrattamenti, violenza sessuale e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità. Una vicenda delicata per la quale è già stato attivato il Codice Rosa, un percorso di sostegno medico, psicologico e legale riservato alle vittime di violenza.